Dina! Nix? Ti ho cercata dappertutto. Dove ti eri cacciata? Nel bosco con un boa? Sì, ma ora è spasso con un tasso. Hai sentito quel ruggito stamattina? Mi descriveresti il ruggito in questione? Che tipo di ruggito era? Forte, terrificante e mostruoso, direi. Gli animali fanno tanti versi, come dire, ringhiano, latrano, ululano, gracchiano, stridono, ragliano. Faceva così? No, un ruggito. Oh, una specie di... No. No! No! Dina! Sì, se senti un verso così, scappa. Mi passi quelli? Ascolta, questa cosa può essere una minaccia per la radura incantata. Se scopri che cosa hai emesso quel ruggito, io devo saperlo. Sono stata chiara? Che cosa farai se la trovi? Il mio lavoro. E io farò il mio. E io farò il mio lavoro.